Nicola Gentili, presidente dell'Associazione Culturale dell'Officina delle Arti, che insieme al Comune di Pescia, alla Fondazione Cassa di Risparmio e con la grande collaborazione delle tre parrocchie di Pescia, Cattedrale, San Michele e Santo Stefano, organizza la decima edizione del Presepe Vivente, che non si chiama Presepe Vivente come un po' tutti gli altri, ma abbiamo avuto con grande umiltà l'idea di dare il nome La Città nel Presepe, perché il nostro obiettivo è di portare lentamente la città all'interno del Presepe, non solo fisicamente ma anche spiritualmente in un'atmosfera natalizia un po' particolare. È un Presepe che nasce nell'anno zero, che però poi successivamente, nelle ultime edizioni, abbiamo deciso di ambientare nel XIII secolo, quindi anno in cui San Francesco, per la prima volta a Greggio, fece questa, che poi è diventata una tradizione importante di tutti noi. Quest'anno, come per le precedenti edizioni, abbiamo stabilito un tema, gli anni scorsi abbiamo parlato della famiglia, abbiamo parlato dell'importanza della donna, con la figura appunto della Madonna, abbiamo parlato della persecuzione dei cristiani nel mondo, ma in generale delle persecuzioni, abbiamo parlato di integrazione, abbiamo parlato dei più umili, il problema della povertà e come spesso queste persone siano quelle meno accetto nella nostra società consumistica, quest'anno abbiamo dedicato con grande piacere questa edizione ai nostri ragazzi, ai nostri bambini, perché riteniamo che loro siano la speranza per un mondo migliore rispetto a quello che lasciamo loro. Domenica 20 dicembre, dalla mattina sarà visitabile, ci sarà tutto un percorso che consentirà a Chiame Presepi anche di visitare quelli nelle quattro parrocchie di pesce, nei quattro rioni, in tutti i negozi che hanno addobbato le loro vetrine e poi dal pomeriggio tutti in piazza del Grano e zone limitrofe dove sarete accompagnati in un percorso anche didattico, perché le varie associazioni presenteranno un percorso gastronomico con la rivalutazione delle ricette dell'epoca, dei mestieri dell'epoca, insegnando ai più piccoli ma anche ai più grandi qualcosa del nostro passato. Quindi vi aspettiamo a pesce domenica 20 dicembre.